il galletto da per tutto è il galletto da forza vecchia sera del sud ma la vecchia del sud la vecchia sera del sud non esiste più purtroppo per i signori quali signori signori che hanno preso per il culo tutto il popolo bianco rosso e tutto bari ma lei che viene a fare ancora qui col motore se non io sono tifoso del bar anche nel male tra resterò sempre bianco rosso sempre se ne qua dice lei di assas cresci dove vado vengo qua no certo va beh e qual è ma è davvero questo il momento più brutto della storia del bari secondo lei questo è il momento più brutto della storia almeno che ne ha vissuti tanti almeno in matarese 37 anni hanno tenuto nel male nel bene serie a in serie b in serie c siamo stati però non abbiamo fatto mai queste figuracce ha fatto questo signor e qua sentiamo commossa come se fosse morto uno di famiglia anche di più addirittura di più anche di più e lei adesso come passerà il suo tempo purtroppo dove passare sia una mano in un'altra devo passare lo stessa ande vendendo in serie di il bario devo guardare lo stesso abbonerà ugualmente diamo un messaggio a chi lo rileverà lei si abbonerà io mi abbonerò e speriamo qui a vedere si e speriamo che tutti gli altri facciano come me perché molti dicono in serie di e voglia di riveniamo nel bene nel male ma in serie di non giovernisciù chi l'ha detto verranno lo stesso perché il popolo bianco rosso e sempre ce l'ha sempre nel cuore qualche volta se n'è scappata no mai e grazie a tutti